In un futuro non troppo lontano, le amorevoli cure di un'infermiera potrebbero essere somministrate da lei o da una delle sue colleghe in circuiti tessuti sintetici. Si chiama Actroid F, è prodotta dalla società giapponese Kokoro e, secondo il Guinness dei primati, si tratta del primo vero android al mondo. Muove gli occhi, apre e chiude la bocca, annuisce e simula persino il respiro. Presso potrebbe trovare impiego negli ospedali nipponici, ma ci sono già le prime voci critiche. Fattore umano o efficienza cibernetica? Il dibattito è ufficialmente aperto.